benvenuti a compila quindi va ciao a tutti ciao a tutti e benvenuti chi c'è chi non c'è chi arriverà allora sono un po scattoso facciamo un check up di tutto quanto ok la musichetta la mettiamo in sottofondo che non disturbi troppo allora come va abbiamo fatto una pausa di una settimana per la befana ma in realtà non era per la befana purtroppo ho avuto un po' di impegni e quindi non sono riuscito ne ho approfittato sia per dire delle cose per riposarmi quindi allora vediamo se funziona tutto ci direbbe di sì la luce c'è il titolo l'ho messo a posto quindi direi che direi che ci siamo quindi questa sera abbiamo un argomento in programma un argomento in realtà che ho già trattato in un'altra sede però un po' di tempo fa come in realtà argomento un pochino secondario rispetto a una trattazione più ampia che riguardava lo sviluppo in generale di applicazioni allora intanto vediamo se spero che si senta bene se mi sposto anche un pochino sposto anche un po' il microfono così e di cosa parliamo? parliamo di Compagnon App che è un nome che mi sono inventato perché in realtà non sapevo come non sapevo come chiamarle quindi come definirle di cosa si tratta? allora l'idea è un po' questa siccome lo spunto mi è arrivato da un paio di domande a cui ho risposto su alcuni forum questa settimana che avevano tutti una necessità che era quella di fare qualcosa su una pagina web quindi una normale richiesta come ad esempio potrebbe essere la stampa di un documento oppure perché non vorrei che la musica fosse troppo alta la stampa di un documento oppure senza però passare dall'anteprima oppure aprire un documento in automatico quindi una serie di operazioni neanche poi come dire niente di avanzato da un certo punto di vista che però hanno un problema che da browser non si possono fare quindi non potete o meglio browser può essere configurato ma in generale se voglio stampare qualcosa dal browser quello che posso fare è avviare un fare un window print cioè chiedere la stampa e a questo punto la richiesta arriva al browser e non posso ovviamente bypassare se è attiva la richiesta dell'anteprima di stampa perché altrimenti questo aprirebbe le porte a delle pagine web malevole all'accesso non dico all'accesso diretto alla stampante no però virtualmente potrei come dire mandare stampa un documento senza che l'utente abbia una conferma o possa in qualche modo interagire e quindi questa è una cosa che non si può fare a tutte queste cose si aggiungono ovviamente tante altre cose che sappiamo benissimo come accedere a file fisici ovvero a dei file che sono magari su una locazione del disco quindi se l'utente fa un drag and drop nella pagina web di un file ecco che tramite javascript e volendo quello potrebbe anche essere una cosa a cui in futuro daremo uno sguardo magari qualche live ecco che da javascript cosa succede? io posso tramite determinati oggetti aprire il file e leggerlo integralmente oppure una porzione in maniera sincrona cioè a quel punto le informazioni sono di libero accesso però l'utente deve ovviamente fare un'azione volontaria di drag and drop o di selezione di quel file come normalmente si fa con un file upload altrimenti è chiaro che dal browser qualunque cosa io scriva non ho la possibilità di sono gli amici di pausa caffè che hanno terminato la live direi che stavo seguendo poco fa e forse era anche in hosting perché ho abilitato l'hosting automatico dei canali che seguo e quindi dove si parlava di divina commedia quindi nulla a che fare con la programmazione sebbene alla fine la persona poi mi sembrava molto tecnica e quindi è un connubio strano di leggere la divina commedia su tiktok tra l'altro mi ha fatto un po' ricredere perché è già la seconda persona che mi piacerebbe seguire su su tiktok perché so che c'è Dario Bressanini che è un chimico lui che legge la divina commedia e quindi secondo me sono un po' prevenuto perché appunto io sono un boomer e quindi come diceva si diceva giustamente prima durante la live che ho ascoltato un po' il tiktok non è da boomer ma per giovani però questo lo pensavo anche di twitch e quindi lo pensavo giusto in realtà però alla fine alla fine ho trovato qualcosa da fare anche addirittura su twitch pur essendo un boomer quindi ciao Isabel dal cognome direi che direi che ho capito chi è il fratello benvenuta grazie a tutti grazie per il ride anzi facciamo uno shout out come di consueto che io poi mi mi scordo sempre o mi scordo o scrivo male il canale quindi stavolta stavolta spero di beccarci di pausa caffè che diciamo era sacrosanta perché prima di fare una live dopo una giornata di lavoro prendere il caffè mi era indispensabile quindi tra l'altro ero curioso di seguire la live e quindi ho spostato in avanti un po' l'orario così parto un po' più tardi sperimento un pochino e quindi mi sembra il giorno per essere boomer le ringrazio ma ho più di 40 anni quindi dipende dipende poi boomer poi si fa presto diventare boomer adesso perché basta essere indietro di qualche anno rispetto a una novità e quindi benvenuto Giacomo e no qui si parla di purtroppo di programmazione di argomenti noiosi e quindi però stavamo per sviscerare un problema un problema tecnico un po' un po' spinosa Gen X non so cosa vuol dire sono così boomer che non so come essere così boomer da non sapere cosa vuol dire boomer sono quasi sono a livello una generazione X quindi no sono un 78 quindi sono ormai sono già avviato per sono già nelle fasce a rischio della fasce a rischio covid a momenti dicevamo stavamo argomento della live era vedere come stendere grazie per il follow si legge malissimo perché l'ho messo proprio sulla chat questo follow il il riquadrino stavamo affrontando questa problematica cioè leggere fare delle operazioni che normalmente nel browser non sarebbero consentite quindi tipo avviare una stampa indiretta direttamente da una pagina web senza passare dall'anteprima oppure andare a leggere dei file su disco quindi fare operazioni di questo tipo sono operazioni che il browser normalmente non normalmente in realtà poi tutti i browser lo impediscono e per fortuna perché comunque a livello di sicurezza sarebbe un discreto problema se i browser si mettessero come dire ad avere accesso diretto al disco e fare delle cose senza il consenso dell'utente grazie per il follow anche Isabel Isabel e Deborah of girl power niente a dire quindi abbiamo un po' di un po' di presenza finalmente femminile in questi ambiti dove ci sono c'è troppa ci sono questi strumenti e queste cose di programmazione le fanno si vede troppo che ci lavorano troppo i maschi infatti è tutta roba assurdamente complicata intricata e ci vuole un po' di ci vuole anche un tocco diverso e quindi cosa di cosa parliamo parliamo di fare di provare di codificare un'applicazione per il desktop in questo caso per windows nel tentativo di agganciarlo come dire alla pagina web cioè il concetto qual è che dalla pagina web ovviamente il browser una serie di cose non le può fare ma noi sappiamo che dal browser possiamo andare a lanciare a far partire ad esempio delle applicazioni che sono installate sul sistema operativo ad esempio mi viene in mente quando vedete lo scudettino con scritto avvia la chiamata Skype e quindi io vado lì ci clicco clicco sullo scudetto e il browser mi chiede vuoi avviare l'applicazione e in quel caso mi fa avviare non capisco una cipa di sta roba beh bisogna vedere adesso provo a esporla il mio obiettivo esporla nel modo più chiaro no vabbè ci sta poi niente ha il suo ambito quindi lo dico io che ho a che fare magari ad esempio con conosco ragazze che si occupano di SEO e cose del genere un giorno mi hanno fatto una carrellata di strumenti io non ho capito nulla di come fanno i posizionamenti infatti mi limito a fare il tecnico a fare i siti e le applicazioni poi su queste cose quindi è anche normale che ognuno abbia i propri come dire le proprie i propri ambiti di specializzazione e quindi così come non capisco nulla di meccanica quindi se mi fermo con la macchina io su un computer mi posso anche posso anche tentare un minimo di fare qualcosa ma quindi l'obiettivo è quello di fare un'applicazione non di fare Skype ovviamente ma di provare a fare un'applicazione che possa essere invocata allo stesso modo come avviene con Skype con Teams ad esempio con Zoom oppure quando avviate quei webinar c'è anche partito c'è questo annuncio che parte fastidioso si possono disabilitare i maledetti annunci aiuto allora dicevamo scusate la distrazione quindi sfruttare questo meccanismo sfruttare questo meccanismo di come dire di invocazione di un'applicazione per estendere le funzionalità della pagina web ossia cosa vuol dire normalmente se avete mai seguito ad esempio un webinar lanciato dalla pagina web tipo quando usate GoToWebinar o applicazioni del genere quello che troviamo nella pagina sostanzialmente è un link che presenta un protocollo protocollo è come un link che inizia come un link che inizia per HTTP o un link che inizia per FTP in quel caso c'è un protocollo che molto spesso ad esempio nel caso di Skype è appunto Skype due punti nel caso di Zoom magari Zoom due punti cioè è un protocollo personalizzato cioè noi abbiamo la possibilità ad esempio in Windows di registrare un'applicazione associando a un protocollo cosa vuol dire che se in una pagina web troviamo un link un link HTTP quindi un link tradizionale ovviamente quello sarà seguito dall'indirizzo di una pagina clicchiamo e browser semplicemente fanno navigazione ma se trova un protocollo che è associato a un'applicazione esterna il browser cosa farà ci chiederà a tutti gli effetti se vogliamo o meno lanciare quell'applicazione e la cosa carina è che nell'uso di quel protocollo ciò che segue il protocollo ovvero ciò che identifica poi l'applicazione che viene scatenata per così dire può essere seguito da un parametro quindi una stringa che poi viene fornita in input alla nostra applicazione quindi quando ad esempio avete una pagina web che dice il webinar è iniziato clicca qui per accedere e voi cliccate vi fa scaricare magari il client quando cliccate avvia l'eseguibile e nella stringa che passa generalmente c'è magari un token con un vostro account l'id del webinar a cui dovete assistere cioè sono parametri con cui un'applicazione viene lanciata e a quel punto praticamente dal browser passiamo il controllo a un'applicazione desktop che rispetto al browser ha un vantaggio cioè quello di poter di fatto accedere e fare quello che il browser non può perché è a tutti gli effetti un'applicazione nativa un'applicazione che gira sul desktop che ha accesso a tutte le risorse alle periferiche a tutto ciò che il sistema operativo ci mette a disposizione poi è chiaro che il browser chiede conferma e questo ci può stare bene se magari ci chiede conferma abbiamo un'applicazione possiamo non farcela chiedere più e quindi in un certo senso italianizzando il termine trastare cioè dare la fiducia a questa applicazione e quindi far sì che la richiesta non appaia più e quindi ogni volta che clicchiamo su questo link lanciamo un'applicazione di fatto che a differenza del browser può fare tutto quello che vuole quello che fa un'applicazione tipica questo sembra una cosa secondaria ma in realtà allora nella maggior parte dei siti ovviamente questa è una è una soluzione che si tende magari a non so a evitare o comunque diventa difficile da implementare su larga scala soprattutto considerando la gamma dei device che abbiamo a disposizione eccetera eccetera però pensate ad esempio a un gestionale o a qualcosa di verticalizzato che avete realizzato per un vostro cliente in formato web non so magari il cliente dice io clicco avvio un'esportazione l'esportazione in realtà non viene fatta scaricando un file ma produce non so in una locazione di rete scelta dal vostro cliente perché ovviamente parliamo di una soluzione verticalizzata magari produce un file in questo percorso e il cliente vi chiede ok io vorrei che sulla pagina comparisse un link io lo clicco e apro il documento ecco ovviamente se siete in un browser cliccate e mettete un collegamento al file il browser ovviamente proporrà di navigarci e poi ve lo farà scaricare in locale cioè non vi fa aprire il file originale se è in rete a maggior ragione se lo restituite tramite il web server cioè quello che dovreste fare è predisporre un link che dica al sistema operativo apri Excel Word ed esegui questa cosa oppure magari il cliente vi chiede ok ha fatto un'esportazione su una locazione che abbiamo configurato fai sì che dammi un link che quando clicco mi apra che ne so esplora risorse nel caso di Windows che punti direttamente sul file cioè l'esportazione l'hai fatta non mi fai fare un download la scrivi sul disco la lancio da un'applicazione web ma voglio in poche parole voglio quell'integrazione in più che mi manca e che dal browser non posso ottenere quindi questo è un po' l'obiettivo potrebbe anche essere visualizzare una notifica a video quindi il browser supporta un API una notification API che fa delle notifiche però ovviamente devono essere standard cioè non possiamo ad esempio sfruttare utilizzare la tray parlando di Windows cioè la zona di fianco all'orologio per fare un'icona nostra un fumetto far comparire una videata con con un logo cioè non possiamo customizzare questa notifica possiamo solo chiedere all'API di farci vedere un messaggio e il browser fa quello che ritiene essere sicuro poter far vedere senza ovviamente consentire alla pagina web nulla di incontrollato perché altrimenti come sempre c'è il problema della sicurezza quindi come farlo quello che proviamo a fare step by step anche se in realtà poi ho un come dire qualche spunto da qualche parte quindi lo scriveremo direi in maniera abbastanza veloce è realizzare un'applicazione che supporti diversi comandi e che sia in grado anche di essere invocata per registrarsi per la gestione di questo protocollo ovvero scegliamo una stringa da usare come protocollo nostro e facciamo sì che la nostra applicazione è lanciata ovviamente con diritti amministrativi altrimenti Windows non lo consente di registrarsi ovvero di qualificarsi come applicazione che è in grado di gestire alcuni link con un formato particolare e poi potremmo inventarci che all'interno di questa applicazione abbiamo eventualmente dei comandi e che la stringa che viene inviata alla nostra applicazione possa essere ad esempio un comando un punto di domanda e una serie di parametri che variano da comando a comando per non so aprire gestione risorse non so lanciare una stampa far vedere un'icona di notifica cioè ci sono alcune alcune cose che magari possiamo provare a implementare per vedere in poche parole quello che ci salta fuori l'applicazione dovrebbe essere in grado di registrarsi e deregistrarsi ovvero c'è una chiave del registro di windows quindi in questo caso parliamo di un'applicazione specifica per windows perché vediamo questa integrazione c'è una chiave di registro dove l'applicazione può dire se il link inizia con questo prefisso questa è l'applicazione da invocare e quindi il browser di fatto ci porta direttamente a lanciare l'applicazione e passarci il parametro dopodiché con quello noi facciamo ciò che vogliamo a me è capitato di usare questa cosa ad esempio per caricare dei file avevamo una pagina web dove comunque c'era la possibilità di fare un upload tradizionale e invece abbiamo deciso essendo un'applicazione web usata internamente di estendere ad esempio un upload facendolo passando un parametro un id da associare a questi file per sapere diciamo il contesto in cui andavano inseriti ma facendo tutto tramite un'applicazione in questo caso desktop che andava a come dire a prendere questo id a fare delle invocazioni di un API rest in questo caso caricando i file quindi abbiamo integrato un client vero e proprio desktop con quello che era una pagina web tolta la conferma cioè dando il trust a questa applicazione i due client e la pagina web lavorano quasi come se fossero in sinergia quindi attenzione non parliamo di un'applicazione che comunica con la pagina web interagisce o la cambia parliamo di una pagina web con un link che lancia un'applicazione e le passa dei parametri ok allora proviamo a iniziare a scrivere qualcosina giusto per per vedere insomma cosa può saltar fuori abbiamo adesso cambiamo anche la cambiamo la nostra videata e andiamo sulla sulla classica schermo e cam abbiamo già il nostro il nostro ambiente pronto all'uso quindi che facciamo facciamo una nuova applicazione VCL quindi facciamo un'applicazione che fa uso delle cosiddette delle API di Windows in questo caso di solito fino ad oggi abbiamo fatto delle live usando molto FireMonkey questo abbiamo usato molto la come dire la parte cross platform di DeFi che è sempre una bella cosa ma una delle cose più interessanti è anche il fatto di avere la VCL cioè una libreria che è particolarmente improntata allo sviluppo di applicazioni Windows ed è molto molto stabile molto efficace quindi facciamo una nuova applicazione quindi l'ambiente ci prepara sempre un progetto nuovo con un file principale dove ci andrà un po' di codice e una finestra principale che al momento direi non utilizzerei forse non ci serve neanche vado sono sicuro adesso vediamo se oddio che è successo mi si è aperto ok quindi un'applicazione Windows proprio del tutto tradizionale nulla di più nulla di meno diamo un nome lo chiamiamo companion app compap non lo so ca non so diamogli un nome quindi salviamo il nostro progetto facciamo una una cartellina companion app c app così chiamiamola così quindi questa è la nostra finestra principale form main in realtà poi probabilmente la finestra la buttiamo via quindi perché vabbè potrebbe servirci ma quello che vorrei implementare sono dei comandi ciao benvenuto shivak spero di averlo pronunciato bene benvenuto benvenuta perché a seconda delle quindi quindi salviamo questa finestra principale e poi ci salviamo anche il progetto c app companion app che è il progetto principale quindi partiamo da partiamo da lì questa adesso gli diamo un nome la chiamiamo main form ma comunque su questa non non lavoreremo più di tanto perché il concetto o volendo potremmo metterci dentro pulsanti potremmo metterci un sacco di roba ma il concetto è l'integrazione e come dire il il fatto di fargli fare qualcosa potrebbe sì potrebbe anche essere qualcosa di visuale ma l'idea è appunto fare come dire una una mettere dentro della logica poi dopo il fatto che abbia una finestra cioè si può fare quello che si vuole quindi quello non è assolutamente un problema una cosa quindi che vorrei fare è implementare dei comandi ad esempio un comando molto semplice che mi può venire in mente è quello di fare un non so una far vedere qualcosa nella tray oppure oppure un'altra cosa più interessante è aprire explore su una locazione del disco questo potrebbe essere un'altra cosa più interessante quindi il concetto è quindi che come lo implementiamo facciamo un ne approfittiamo per fare un'architettura quindi una sorta di architettura basata a servizi di cui abbiamo un'app principale ma sì dai questo è il e magari prevediamo diverse diverse operazioni allora teniamola molto semplice come come tipo di architettura perché poi non vorrei renderla troppo complicata quindi io farei a questo punto una cosa di questo tipo una bella classe che gestisca la nostra app che vada a recuperare ad esempio i parametri che sono passati all'applicazione distinguendo quello che è un comando facciamo da quello che può essere una serie di parametri quindi potremmo anche gestirlo in questo modo allora innanzitutto vediamo qual è il concetto il concetto qual è riprendiamo un attimo l'esempio adesso ho una pagina web che possiamo usare come esempio quindi questa è la vediamo se compare direttamente qui ok questo l'avevo usato per un demo possiamo usare questo ma possiamo farne anche una come dire da capo avevo messo un'anteprima del link ok questo non è diciamo indispensabile allora il concetto qual è usiamo ad esempio un partiamo proprio da zero un viso studio code ok gli facciamo fare una bella pagina pagina web quindi seleziona un linguaggio tra l'altro abbiamo anche delfi tra i linguaggi in viso studio code l'html ok fammi magari la struttura html5 va benissimo quindi companion app demo ok lo chiamiamo così companion app demo ok non so se si legge ma dovrebbe riuscirsi quindi qui il nostro concetto qual è il fatto di usare di mettere dei link un link con cui noi possiamo andare a richiamare la nostra applicazione quindi vogliamo ad esempio non so far vedere su explorer questo è un po' il concetto aprire gestione risorse su una cartella quindi noi cosa potremmo fare una delle cose che potremmo fare è mettere un link classico e qui usare il protocollo file e mettere ad esempio e due punti temp che è una delle cartelle che stanno sul mio disco apri cartella questo non è andiamo a salvare ad esempio qui la nostra pagina ok demo html l'andiamo ad aprire ok vediamo se parte apri cartella apri cartella che cosa fa di fatto dice al browser di andare nella cartella temp e quindi arriviamo qui che abbiamo un un indice di e cioè abbiamo una navigazione in file system tramite il browser cioè non è quello che vogliamo noi non vogliamo sfogliare il disco dentro il browser vogliamo che si apra gestione risorse questo è una cosa che ovviamente da browser non è possibile fare perché da browser non possiamo lanciare ovviamente da javascript non possiamo eseguire questo comando a meno di non interagire tramite protocollo con un programma esterno quindi in realtà potremmo configurare explorer risorse per associarsi a un link e partire in automatico però quello che potremmo fare è associare una nostra applicazione a un nostro protocollo far sì che l'applicazione venga chiamata dal browser e venga passato un percorso e la nostra applicazione cosa fa va a invocare explorer e lo fa aprire su questo percorso questo può essere uno degli esempi oppure non so passiamo un messaggio e facciamo aprire una message box che ne so questo abbiamo tanti ovviamente tante soluzioni possibili tante cose la nostra applicazione virtualmente può fare di tutto potrebbe essere un gestionale che si apre e che automaticamente prende l'id di una fattura la visualizza cioè possiamo passare qualsiasi tipo di parametro quindi la prima cosa da fare è inventarci un protocollo quindi al posto di questo file potremmo dire capp companion app spero di non aver beccato il nome di un protocollo standard ma questo lo scopriamo subito perché se noi apriamo la pagina di prima quindi questa demo e clicco qui non succede nulla perché non c'è nulla all'interno del mio sistema che sia associato a questo protocollo cioè questo è qui potremmo scrivere anche Pippo cioè è una dicitura che scegliamo noi quindi dovremmo avere cura di scegliere il più come dire custom possibile quindi io ad esempio potrei dire cqv compila quindi va e metterci un nome personalizzato e usare il nome che voglio io quindi l'importante è che sia il più univoco possibile perché ovviamente se mettiamo una cosa come http ftp ci stiamo già un po' come dire tagliando come si dice ci stiamo già un po' fregando con le nostre mani quindi usiamo questo c-app companion o se volete companion companion app il più lungo possibile tanto poi e abbiamo un link che sta praticamente invocando un protocollo quindi questo è il nome del protocollo questo in realtà slash slash non ci vuole direi aspetta che magari riguardo riguardo il demo che avevo fatto a suo tempo non si sa mai che magari mi ricordi male cioè quello che segue i due punti quello che viene dopo qui ovviamente è quello che viene veicolato la nostra applicazione quindi il formato è protocollo due punti parametri cosa potremmo fare in realtà se vogliamo che la nostra applicazione ad esempio abbia più funzioni potremmo decidere di usarlo in un formato di questo tipo ovvero mettere un comando mettere un punto di domanda e poi farlo seguire da un da un percorso ad esempio io ho un percorso di file di test condivisi perché magari potremmo avere questo explore potremmo avere un'altra applicazione che fa non so l'eco di un messaggio eco e qui mettiamo testo messaggio visualizza messaggio cioè potremmo decidere che la nostra parte parametrica sia formata da due parti e facciamo fare l'applicazione più cose ma qui potremmo usare punti di domanda percentuali e la struttura di un url cioè potremmo veramente sbizzarirci come vogliamo cioè questa è una stringa a nostro uso e consumo quindi potremmo usare dei pipe potremmo usare dei caratteri quelli che vogliamo tanto poi questa stringa viene viene encodata quindi partiamo da qualcosa di semplice per far vedere il concetto quindi in realtà non gestiamo al momento questo comando ma andiamo a invocare l'applicazione con questo parametro apri cartella file di testo apri cartella e vediamo come funziona quindi nella nostra applicazione la cosa che dobbiamo fare è andare a registrare questa applicazione come protocollo quindi dobbiamo dire al nostro sistema che l'applicazione deve essere eseguita al posto cioè nel momento in cui nel browser cioè il browser deve sapere che quando vede questo compagnon app deve andare a chiamare un'applicazione specifica come fa a saperlo questa informazione va inserita all'interno del registro di Windows quindi tra le cose che noi possiamo possiamo in un certo senso pensare è fare eseguire la nostra applicazione la registrazione essendo un'operazione un pochino lunga andiamo in realtà a farlo in questo caso al momento manualmente quindi lancio il regedit il mitico editor del registro e dove andiamo andiamo sotto classic root quindi nel momento in cui la nostra applicazione farà questo tipo di operazione dovrà avere diritti amministrativi perché se scrive nel registro ovviamente per scrivere nel registro bisogna avere i diritti perché meno che non sia current user l'applicazione deve se scrive in classic root deve essere per forza deve avere i diritti amministrativi questo per forza di cose quindi che andiamo a fare in questo caso poi vedremo un'applicazione completa già fatta già pronta con come funziona la cosa la cosa funziona in questo modo dobbiamo avere un ID quindi registrare qui sotto un qualcosa che abbia un ID ok quindi aprire adesso non mi ricordo come si chiama la chiave la chiave da utilizzare ma la vado a beccare subito registrerà PD quindi qui potremmo usare ad esempio il nome che abbiamo usato anzi non dobbiamo mettere esattamente questo cioè registrare una classis root nuova chiave la chiamiamo companion app quindi facciamo una chiave per la nostra applicazione in questo caso per registrare la nostra applicazione passiamo quindi una volta che abbiamo messo questa dobbiamo mettere all'interno poi qui se uno vuole far prima può andare a vedere ad esempio qui in zoom launcher o in altre vedete che ci sono già delle applicazioni delle classi registrate che sono invocabili ovviamente direttamente anche queste dal web ci sono le estensioni e ci sono un sacco di altre cose ad esempio qui c'è lo zoom launcher vediamo che ha questo url zoom launcher quindi ci sono delle informazioni ci sono queste informazioni che sono da inserire nel registro per poter fare invocare la nostra applicazione quindi noi che andiamo a mettere andiamo a mettere una chiave fatta in questo modo è una chiave stringa quindi facciamo una nuova stringa come nome adesso gli lascio questo ma poi andiamo a mettere url due punti no scusate quella di default l'ho vista anche prima quindi se ne trovassi una di esempio come questa quindi url protocol predefinito quindi questo è il formato da usare quindi andiamo qui e mettiamo appunto url due punti la nostra appd che sarebbe companion app scriverla bene altrimenti non funzionerà mai e poi volendo potremmo aggiungere anche una descrizione un momento la lascio se è possibile la lascio vuota adesso vedo vedo un po' sì dai mettiamola così abbiamo tutto companion app demo così dovrebbe essere così no ok poi dobbiamo aggiungere un'altra serie di di chiavi sto guardando che ci sono due volte la stessa istruzione per qualche motivo ok poi abbiamo edit flex forse non serve versus filter url protocol quindi qui dobbiamo aggiungere questa chiave in realtà le più importanti sono come poi vi fa vedere qui ad esempio qui c'è la stessa cosa zoom launcher quindi qui c'è una descrizione da utilizzare url protocol quindi anche qui possiamo usare come dire una descrizione il tag url protocol dobbiamo creare la sotto chiave shell ok shell e all'interno di shell una chiave open quindi all'interno di shell abbiamo una chiave open e poi come questa direi la chiave command che si chiama command esatto nuovo io sto facendo tutto manualmente ma in realtà poi lo andremo a far fare direttamente alla nostra applicazione tutta questa roba e possibilmente via codice quindi avremo un'applicazione che dietro comando gli diciamo di registrarsi e accederà con le classi al registro e andrà a inserire queste cose così come le andrà a rimuovere nel momento in cui facciamo un uninstall quindi andiamo a rimuovere il tutto fatto questo ok direi che ci siamo quello che dovremo fare è fare come dire registrare il comando il comando è così fatto allora vediamo quindi andiamo qui e aggiungiamo come stringa predefinita in questo caso se andiamo a vedere come è fatto ad esempio quello di zoom vedete che avete questa è la mia installazione di zoom all'exit di zoom e poi passa tattino tattino url e poi c'è quel percentuale 1 sta a indicare che lì vogliamo il primo parametro che ci viene che ci viene indicato quindi noi qui cosa scriveremo scriveremo qualcosa di analogo ovvero andiamo a mettere qui il nostro comando ok quindi in realtà al posto di percentuale S mettiamo il nome dell'eseguibile quindi dobbiamo fare una build il nostro eseguibile si trova qui facciamo una build andiamo a vedere dove il nostro eseguibile sarà sotto win32 ovviamente sotto debug e questo è il percorso della nostra applicazione capp.entese quindi qui dovremo andare a scrivere tutta questa roba qui e poi c'è questo percentuale percentuale 1 command adesso qui lo semplifichiamo almeno all'inizio così diciamo diventa più facile lasciamolo così perfetto quindi abbiamo creato il protocollo dato una descrizione attivato come all protocol qui abbiamo shell open command e qui abbiamo messo l'exe da lanciare e il segna posto questo percentuale 1 per andare a passare il primo parametro questo è un po' il concetto fatto questo quindi cosa mi aspetto che dando un refresh cliccando qui ecco che il browser cosa fa ci avvisa che con questo tipo di con questo link possiamo andare ad aprire è un link di tipo companion app cioè c'è un'applicazione associata e noi la possiamo andare a scegliere abbiamo la nostra c-app quindi guardando nel registro il browser ha trovato la registrazione possiamo eventualmente associare un'altra ma se noi selezioniamo questo e facciamo apri link ecco che viene invocato praticamente il nostro exe e quindi ci troviamo la finestra vuota perché il nostro exe è fatto così abbiamo creato un'applicazione vuota abbiamo messo un mainform se noi lanciamo questo eseguibile vediamo apparire la finestra principale e l'applicazione di fatto non fa nulla ma ovviamente l'applicazione riceve dei parametri potremmo trattarli e quindi farci un po' tutto quello che vogliamo quindi vediamo ad esempio di farla reagire vediamo se riusciamo a leggere le informazioni che arrivano quindi intanto la chiudiamo è chiaro che questa operazione ogni volta che noi clicchiamo possiamo dirgli anche di consenti sempre quindi qui diciamo al browser di non avvisarci più e a quel punto se facciamo questa scelta e andiamo ad aprire anche qui potremmo dirgli usa sempre questa applicazione poi come ci suggerisce il browser sto usando Firefox ma vale anche per Chrome vale per qualsiasi altro browser possiamo dirgli di modificare l'impostazione affinché memorizzi quindi gli abbiamo detto di non avvisarmi più di lanciare questa applicazione di prenderla come default a questo punto lui la apre tutte le volte che adesso clicchiamo la finestra viene aperta quindi io clicco qui e il browser il browser lancia praticamente un'applicazione passandogli teoricamente questa cosa che vediamo qui giù ovvero questo è il link quindi questo è il protocollo che attiva l'app a questo punto e questa è la parte che per noi dovrebbe essere parametrica vediamo se riusciamo a catturarla in qualche modo ovvero viene lanciato la mainform compare e quindi nella mainform potremmo gestirci l'evento di creazione potremmo metterci ad esempio una casella di testo molto velocemente piuttosto lunga così se arrivano dei parametri come dire voluminosi li possiamo catturare volendo potremmo agganciarla agganciati in alto magari con un po' di margine così usiamo il quick edit così allinea con usando i margini cambia tutti i margini metti 9 pixel così così sta un po' nel mezzo però rimane rimane ancorata la nostra finestra che se la dimensioniamo e poi metto un bel pulsante questo pulsante invece lo metto in basso anche a lui vado a fare un quick edit gli dico di allinearsi magari lo facciamo un po' più grossino un po' più grossino anche questo aumentiamo il font di tutta la maschera così magari così magari si vede meglio anche in live così tanto i controlli prendono allora name questo è il nostro close button pulsante di chiusura esci esci chiudi questo è il nostro param edit sì per far vedere i parametri il test è vuoto lo mettiamo come nome param edit ok quindi tanto poi col protocollo la nostra applicazione è già registrata quindi nel momento in cui noi adesso andiamo a modificare quando verrà rilanciata verrà rilanciata ovviamente come dire verrà rilanciata ovviamente la nuova versione cioè noi stiamo sostituendo facendo delle modifiche quando facciamo build legs e vecchie viene sostituito da nuovo e quando il browser lancia l'applicazione ovviamente ci lancerà l'ultima versione quindi qui cosa volevo fare torniamo qui volevo recuperare da queste identificatori globali param str di 0 questo è l'oggetto che ci estrae separati da spazio cioè non l'oggetto la funzione che ci estrae i parametri se mettiamo 0 abbiamo il nome dell'applicazione dell'exe che potrebbe interessarci come no se mettiamo 1 teoricamente abbiamo il primo parametro quindi cosa faccio faccio param edit cioè la nostra casella di test text param str di 1 e quindi mi aspetterei volendo potremmo anche testarla ovvero dal menu di debug run parameters qui potremmo andare a dire come parametri passa qualcosa tipo e2 punti slash test shared percorso oppure e temp ok così facciamo una prova questi sono i parametri che passiamo quindi se io in debug provo a lanciare l'applicazione anzi senza debug ma lui lo lancia con i parametri e il primo parametro ce lo dovremmo trovare esattamente qui questo perché abbiamo scelto il link l'abbiamo costruito così quindi questo è il protocollo che dà via l'applicazione questo è ciò che viene passato come primo parametro nel registro noi abbiamo scritto qui che lanciando il protocollo questo è l'exe da far partire e questo è il posto del primo parametro quindi la nostra exe parte e nella riga di comando c'è uno spazio e poi c'è il primo parametro che mi aspetto sia il percorso che è stato impostato da questa parte questo è diverso quindi se lo lancio in debug ottengo questo perché quello che ho impostato ah qui poi non ci ho messo il codice sull'esci ok adesso ce lo mettiamo prendiamo il nostro pulsantino esci per uscire è sufficiente che facciamo la close della finestra principale perché quando la finestra principale viene chiusa l'applicazione delfi termina e quindi e quindi a questo punto proviamo a dare un refresh e vediamo se in quella casella vediamo il percorso che c'è scritto qui ovvero quel e test shared quindi apri cartella no vedo un percentuale 1 quindi probabilmente ho sbagliato a registrare il protocollo secondo me ho sbagliato perché ho messo delle cose non tra parentesi esatto come vedo qui perché c'è il percorso bisogna stare attenti che questo deve essere specificato tra parentesi e qui c'è percentuale 1 e basta dovrebbe essere così riproviamo apri cartella ci arriva tutto in realtà ok qui viene scritto in questo modo perché ovviamente è il 5c è l'esadecimale ex asci 5c lo vediamo come la la conversione in esadecimale quindi è la versione codificata cioè noi quello che clicchiamo un url quindi tutto ciò che è uno slash ad esempio gli spazi vengono messi dove è dove è 5c vedete che è il 5c è il nostro è il nostro slash cioè ovviamente l'url viene codificato in modo in modo che in modo che lo slash non compaia proprio naturale ma debba essere in qualche modo interpretato e decodificato quindi dovremmo utilizzare proprio le classi che usiamo anche tipicamente per il per l'encoding e il decoding di url all'interno di Delphi per fargli interpretare questi questi valori dovremmo escludere questa parte quello si perché è la parte diciamo lui ci passa tutto quindi ci passa proprio l'url interamente quindi noi dobbiamo trovare un po' il modo di lavorare su questa stringa e tirare fuori un po' quello che ci interessa partendo dal come dire dalla parte che segue il percentuale e scartando tutto quello che non ci serve come possiamo farlo allora in realtà in realtà quindi poi passeremo a vedere una un'implementazione fatta un pochino meglio qui stavo guardando che questo è interessante interessante qui ho usato un servizio un register ho usato altre cose però c'è qualcosa che devo capire meglio sulla sulla registrazione del comando perché mi sembra strano proviamolo così poi chiaramente si si sperimenta si fanno si fanno tutte le prove no questo infatti non non può andar bene perché non me lo sostituisce proprio pesantemente quindi va bene dopo vediamo vediamo magari come si comporta ok allora passiamo in questo caso a qualcosa di diverso se invece metto un indirizzo vediamo qualcosa passa tutto e poi siamo noi che dobbiamo passare in qualche modo dobbiamo passare in qualche modo quello che arriva quindi il programma viene invocato e la stringa viene passata proprio esattamente così com'è quindi quindi qui in realtà cosa succederebbe che ad esempio nel caso di zoom c'è un url trattino trattino url uguale è parametro che arriva da fuori e quindi è come se a zoom venisse passata ad esempio tutta la tutta la stringa come vediamo ad esempio se c'è anche se c'è anche skype skype famoso perché avete le estensioni call avete le estensioni chat così vediamo qualche esempio fatto anche c'è pure spotify che può essere lanciato con l'url protocol potete mettere anche un'icona potete mettere protocol uri qui è sempre l'exe che viene invocato passandogli proprio tutto l'url l'url intero del che arriva dalla pagina web dunque andare in ordine alfabetico devo andare su ovviamente skype qui c'è skype skype meet now skype cast no questo è link quindi skype url shell open command e qui viene passato banalmente l'url dove ci sarà scritto call e il nome dell'utente quindi già qui l'url è fatto in maniera un pochino diversa ok comunque questo è per rendere l'idea di come l'applicazione può essere registrata e può essere implementata per andare a fare questo tipo di lavoro vediamo un esempio già fatto più completo di tutta questa roba quindi a volte la teoria abbiamo in realtà anche anche della pratica quindi non solo teoria ma vediamo una cosa più strutturata dal punto di vista adesso appena la trovo esatto prendiamo questa così la andiamo ad aprire e vediamo un'applicazione fatta come dire un po' più strutturata che fa un po' più di cose e quindi questa è un'altra applicazione sempre vcl per windows vediamo di fare il build anche se non l'ho mai fatto qui c'è un app service c'è questo run che cosa fa di bello questo run c'è un'applicazione e c'è una class procedure cioè un metodo o un membro statico in questo caso quindi non è un oggetto di cui dobbiamo andare a creare un una istanza e che cosa combina va diciamo a interagire con dei servizi quindi c'è un trade service ovvero in questa applicazione sono diversi diversi servizi un servizio che va a fare un'elaborazione del comando che arriva quindi quello che arriva da protocol viene come dire professionalmente sviscerato quindi quello che vedevamo prima arrivare dal registro qui viene come dire decodificato viene rimosso il protocollo viene si verifica che il protocollo sia quello per cui ci registriamo quindi se nel caso prima era companion app verifica che tutto inizi per companion app altrimenti l'url cioè noi riceviamo l'url completo oltre a riceverlo e prenderlo come assodato cerchiamo di verificare anche che sia corretto che non sia stato lanciato per sbaglio poi c'è come dicevo prima qui il decode ovvero quei percentuali 5c percentuali 20 che sono spazi cioè tutti i caratteri che sono speciali e quindi non url non andrebbero indicati ad esempio un minore o un maggiore nell'html chiudono i tag quindi non vanno bene sono codificati quindi noi dobbiamo fare il decode e arrivare alla stringa originale in questo caso poi qui sono stati previsti più comandi ovvero questa applicazione è in grado di ricevere diversi comandi quindi la stringa è formata da comando da eseguire punto di domanda e parametri di quel comando quindi questo è un client che invece di una cosa sola come quello di prima che fa vedere una form e ci butta dentro qualcosa cioè fa vedere i parametri fa vedere lo stringone che è arrivato da windows in poche parole che è stato veicolato dal browser questo fa già del parsing divide comandi da parametri supporta più operazioni e quindi ha già una come dire un po' di logica in più in realtà quello che va a fare è riconoscere la parte iniziale con il comando quindi usa le copy che sono estrazioni di stringhe grossomodo quindi sotto individua la posizione dei punti di domanda e va a come dire in qualche modo a recuperare la parte che riguarda il comando per distinguerla dalla parte che riguarda i parametri altrimenti quindi che saranno poi da passare in qualche modo quindi o tiene le due parti oppure se la seconda parte viene omessa ovviamente sarà una stringa vuota e il command name corrisponderà al comando che è stato estratto se il comando rimane vuoto segnalerà un errore per dire guarda che non mi hai indicato il comando altrimenti farà una find class quindi find class è quella funzione di Delphi che va a ricercare una classe per nome e in Delphi abbiamo due operazioni anzi tre funzioni register class un register class e find class cioè noi possiamo implementare nel nostro applicativo una classe se la passiamo a un register class come funziona nel nostro eseguibile a runtime quella classe diventa in un certo senso ricercabile quindi abbiamo delle informazioni su quel tipo che diventano disponibili per il fatto che la classe è stata registrata ovvero è stata iscritta in una sorta di registro quindi censita e quindi quando usiamo find class riusciamo andarla individuare qui lui cosa fa cerca una classe che si chiama tcommand command name cioè giochino qual è che dall'esterno noi passiamo un comando che è una stringa può essere come dire una stringa qualsiasi può chiamarsi pippo pluto paperino questa implementazione dà per scontato che se un certo comando è implementato all'interno di questo client esista una classe che si chiama tcommand nome del comando quindi supponiamo di voler esplorare il disco e aver fatto un comando explore con il path da aprire avremo un tcommand explore come classe che implementa quella logica in poche parole quindi usando la programmazione oggetti facciamo un comando di base e estendendo quella classe possiamo implementare aggiungere diversi comandi perché qui il concetto qual è? che noi vogliamo estendere la pagina web con delle funzionalità le funzionalità sono implementate in una companion app potremmo ad esempio avere un gestionale dove le cose che vogliamo fare sono n e magari non andiamo a replicare la struttura di un'applicazione di una companion app facendone mille ne facciamo una che però sia in grado di fare magari determinate cose quindi accompagniamo con un'applicazione il nostro applicativo web facendo sì che non supportiamo una sola operazione ma ci inventiamo una sorta di standard per poter consentire all'applicazione web di eseguire e passare più comandi e ogni comando di passagli di fatto i suoi parametri nel loro formato quindi praticamente creiamo già qualcosa di più completo però non andiamo in un certo senso a mettere degli if se il comando è x esegue la logica x il comando è y la gestiamo in maniera dinamica ovvero quando creiamo un comando gli diamo il nome che vorremmo vedere nell'url registriamo quella classe quindi quella classe rimane ricercabile quando ritroviamo il comando nell'url lo andiamo a cercare quindi se la troviamo vuol dire che il comando c'è e lo eseguiamo altrimenti il comando non è supportato che poi è quello che avviene che avviene qui quindi nel momento in cui il comando è registrato con find class lo troveremo se non lo troviamo scriveremo che command class error che vuol dire nel messaggio c'è scritto non viene il messaggio non viene non viene trovato non è ricercabile altrimenti usiamo la la classe facciamo create perché noi facciamo una find class troviamo la classe e quella sarebbe diciamo una classe generica potrebbe essere un t object ma noi lo andiamo a castare al comando da eseguire ovvero cosa facciamo diciamo che non è una classe qualsiasi ma sarà una classe che discende dalla classe base dei comandi e quindi è la classe di un comando e quindi facendo la create che il costruttore sappiamo che si aspetterà una stringa con gli argomenti che è la parte parametrica dell'url quindi arriva l'url estraiamo il nome del comando cerchiamo una classe di quel tipo castiamo quel tipo alla command class cioè non è una classe generica ma è una classe specifica che appartiene a una certa famiglia di classi quelle dei comandi quindi sappiamo che il costruttore accetta certi argomenti andiamo a creare e andiamo a fare l'execute cioè di fatto eseguiamo quel comando cioè questa infrastruttura cosa ci consente che nei momenti in cui abbiamo dei comandi già implementati vogliamo fare uno nuovo creiamo una nuova classe che era edita dalla classe base dei comandi gli diamo come nome il nome del comando che vorremmo mettere nell'url e poi implementiamo l'execute e siamo a posto a quel punto abbiamo già aggiunto un comando nuovo alla nostra applicazione qualunque cosa accada se ci sono errori abbiamo questo message box service error message box service non è altro che una classe che sta qui che dispone di diversi metodi ad esempio c'è questo show che è privato e di fatto visualizza un testo con diverse carature ovvero questo e type è come dire una costante che serve per far vedere l'icona dell'informazione dell'errore quindi seleziona diciamo un po' il tipo di messaggio poi abbiamo reso pubblico delle come dire delle procedure che vadano alert error info e warn che vadano in un certo senso a chiamare questo metodo privato passando come si vede qui nell'implementazione mb icon exclamation icon error icon information cioè passando il valore che noi ci aspettiamo sia quello atteso per avere una certa icona quindi icon information fa la i informativa warning fa il punto esclamativo l'error fa la x rossa quindi nulla di usiamo questo con uno show perché questo fa la message box quindi questa roba ci troviamo un messaggio che appare sul desktop quindi 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 che andiamo a fare quindi abbiamo ricapitolando abbiamo questo run che come dire avvia i servizi riceve delle operazioni quindi fa un po' il parsing delle nostre operazioni e in base al comando ci dice come dire il ci va a eseguire un comando o fare una delle operazioni che sono previste dall'applicazione da questo punto di vista quello che viene fondamentalmente fatto è controllare che esistano i parametri e se non ci sono parametri da un'informazione dice che non ci sono se c'è la register va a registrarsi come protocollo quindi qui abbiamo praticamente l'implementazione register protocol è l'implementazione di quella logica che io ho fatto a mano agendo sul registro che va a iscrivere la nostra applicazione all'interno del del registro questo è quello che vedevamo prima allora qui c'è una istruzione di troppo secondo me cioè va ad aprire hotkey classes root va a registrare a creare una chiave per il nostro apd che qui è una sigla con se trovo globals si chiama vc quindi questo è il nome del protocollo questa è la struttura della sintassi questo abbiamo visto che potrebbe essere un problema in realtà quindi lo mettiamo così command e poi mettiamo un percentuale 1 ok che secondo me è più corretto qui c'è protocol c'è un'altra c'è un'altra parte quindi la nostra applicazione se viene chiamata col comando register tenta di registrarsi la register fa ovviamente tutte le operazioni inverse ovvero accede a classic root trova la stringa e no scusate ho sbagliato il metodo qui e fa la unregister ovvero va a eliminare la propria chiave tutte le sottochiavi da registro unregister protocol ok quindi se invece c'è un slash command allora a quel punto entra in gioco il nostro famoso command service ovvero quella parte di logica che vedevamo prima che fa il parsing dell'url e va a estrarre qualcosa da fare cercandola in giro come sono fatti i nostri i nostri comandi sono fatti in questo modo abbiamo una classe base da qui derivano tutte le classi dei comandi non mi ricordo perché l'ho resa persistent onestamente però mi sembra superfluo forse perché la register class richiede il persistent come classe minima ok si perché c'è la generazione delle informazioni per la runtime type information quindi il comando cos'ha un costruttore con i suoi parametri virtuali in modo che nelle classi discendenti quando creiamo un comando possiamo fare anche qualcosa in più ha una routine una procedura execute un metodo execute che è virtuale per essere scavalcato ed è astratto ovvero deve essere per forza implementato dalle classi discendenti e qui non è implementato perché questa è la classe base dei comando rappresenta un comando generico non sapendo un comando generico cosa deve fare ma solo l'implementazione concreta ovviamente dispone di questa informazione è definito come astral cioè qui non c'è l'implementazione ma siamo costretti ad andarla a mettere nel momento in cui facciamo le classi discendenti e c'è una proprietà di solo lettura perché il campo è privato che consente di leggere i parametri perché ovviamente a seconda del comando abbiamo bisogno di questa stringa che contiene i parametri del comando quindi abbiamo l'url che veicola dei parametri tra cui c'è uno slash command che sta a indicare di eseguire un comando da questa applicazione c'è il nome del comando e poi ci sono i parametri di quel comando quindi parametri nei parametri in poche parole e poi c'è la command class class of the command cioè abbiamo un tipo che consente di parametrizzare praticamente qualsiasi tipo di comando questa è una sorta di generics anche se lo preferisco di più cioè abbiamo un tipo di dato con cui noi possiamo identificare non un oggetto che è un comando ma la classe di per sé quindi qui c'è la create di base che non fa altro che chiamare il metodo ereditato il costruttore ereditato e salvare i parametri che poi ogni comando userà come meglio crede qui abbiamo commands abbiamo effettivamente i comandi che sono implementati all'interno di questo client c'è questo check quindi credita da command e cosa fa fa questa execute ovvero questo è il metodo che viene eseguito quando noi mettiamo nell'url la parola check ok quindi quello che fa è chiamare il message box service con questo function check message che non è altro che una stringa function check message che dice il programma è stato registrato nel sistema e funziona regolarmente ovvero un comando semplicissimo che chiamando la message box ci fa apparire a video un'informazione che dice ok l'applicazione va e quindi è un check qui c'è la nostra register class quindi ecco che abbiamo implementato il comando e qui inizializzazione cioè quando questa unit viene caricata la unit va nella system classes e va a registrare questo comando va a censire questo comando cioè lo rende individuabile per nome cercando t command seguito da check che è il comando che noi andiamo a specificare nell'url la stessa vale per questo eco che fa una cosina in più ovvero nell'execute chiama sempre il message box service quindi fa sempre vedere una casella di messaggio ma nell'info invece che è una costante passa gli argomenti quindi se noi eseguiamo il comando eco e passiamo una stringa ci fa vedere questa stringa in una in una finestra in una casella di messaggio è ancora più interessante questa parte di explore che invece tra gli argomenti va a specificare un path quindi noi qui ci aspettiamo che come argomento venga indicato un path e quando c'è l'execute del comando quello che facciamo è una shell execute cioè andiamo a chiamare un comando della shell che è il comando open del processo explorer e andiamo a selezionare mettiamo anche select e mettiamo il path cioè se qui è presente un percorso di file non di cartella explorer cosa fa lo va ad aprire la cartella superiore e ci seleziona anche il file quindi mettiamo di aver appena salvato in una pagina web un report in una locazione di rete possiamo dire all'utente il tuo report è pronto se clicchi qui puoi andare ad aprirlo cliccando il sito web lancia il nostro client e gli passa un percorso che di fatto gli consente di andare ad aprire in gestione risorse la cartella che contiene il documento che ha appena generato e il documento è anche selezionato quindi a quel punto l'utente se lo trova davanti non viene aperto ma basta un invio un doppio clic per aprirlo quindi lo portiamo esattamente dove abbiamo fatto il dove abbiamo generato quel file esportato e poi lasciamo all'utente la scelta di prenderselo e copiarlo andarlo ad aprire andarlo a vedere quindi facciamo come dire uno step in più se l'utente ovviamente non si installa questa applicazione la pagina web segnala questo messaggio e cliccando non fa nulla quindi diciamo che la nostra applicazione web ha il compito di fare la generazione del report ad esempio ma ovviamente potrebbe suggerire con un link di scaricare un setup che una volta scaricato metta un'applicazione che faccia qualcosa in più cioè consente di rispondere a delle richieste che arrivano dalla pagina web e la pagina web è potenziabile con un appunto un'accompagnion app cioè un tool che fa da accompagnamento a tutti gli effetti che fa le operazioni che il browser chiede ma che l'utente deve che da browser però non è possibile fare direttamente perché ovviamente per sicurezza non abbiamo i diritti e il coding il codice all'ambiente javascript che noi che abbiamo a disposizione non ci permette di farlo per ovvi motivi di sicurezza quindi ci consente di fare altre cose ma qui ovviamente il tool l'abbiamo fatto noi abbiamo realizzato l'abbiamo pre-approvato cioè la prima volta ci viene dato l'avviso quindi noi possiamo disabilitarlo e prendere le scorciatoie ma nulla viene fatto senza ovviamente il consenso preventivo dell'utente questo è la cosa importante ma con il consenso preventivo tramite questo client non abbiamo solo la possibilità di lanciare delle applicazioni note di fare Skype Zoom eccetera ma possiamo mettercene una nostra e fargli fare sostanzialmente quello che vogliamo perché alla fine è come se noi questa applicazione l'avessimo lanciata direttamente da Windows cioè è come se non provenisse dal browser quindi l'avessimo lanciata direttamente quindi nel caso di Delphi è un'applicazione nativa non c'è un runtime non c'è .NET è un'applicazione Win32 che usa le API di Windows chiaramente poi possiamo andarle a mettere i temi possiamo andare a stilizzarla come vogliamo possiamo fargli un sacco di cose quindi anche raffinarla e quindi possiamo come dire potenziare la nostra applicazione web virtualmente con delle feature in più chiaramente il giochino sta nel bilanciare un po' quello che mettiamo al lato web quello che mettiamo in questa applicazione i parametri che passiamo e le idee che ci facciamo venire per fare sì che sul click avvenga qualcosa cioè diciamo che abbiamo comunque un possibilità infinite quindi stiamo scavalcando quelle che sono le limitazioni del browser annetto che è necessario installare un'applicazione in più al posto cioè di accompagnamento senza la quale il browser alcune cose non le potrebbe fare questo ci consente anche di evitare delle soluzioni che non sono viste di buon occhio come installazione di plugin nel browser perché fare un plugin per il browser ad esempio Firefox richiede conoscenza di javascript richiede conoscenza della sua interfaccia che è realizzata con una libreria particolare quindi richiede di sapere esattamente come si interagisce col browser e tra l'altro già abbiamo il problema dei sistemi operativi in quel caso dovremmo implementarlo per ogni browser mentre ad esempio qui abbiamo la problematica magari di vedere come si potrebbe fare qualcosa di cross platform per Mac se volessimo fare la stessa cosa anche perché sistemi operativi diversi ma supponendo che ci sia una soluzione anche per Mac adesso io non l'ho approfondito ovviamente non lo so escludo per il momento l'ambito mobile perché è già meno meno efficace però quando siamo su Windows se noi registriamo la nostra applicazione non ci interessa il browser che viene utilizzato perché ogni browser è istruito per andare a invocare il client che nel sistema è registrato come gestore di quel particolare protocollo che è indicato nel link quindi che usiamo Opera che usiamo Edge Firefox Chrome non cambia nulla ogni browser quindi l'utente si installa questa applicazione e a quel punto ha le sue feature incorporate quindi come facciamo ad esempio a far registrare dobbiamo entrare ovviamente nella parte del nostro App Service che viene gestito qui passando come parametro un register se lo lancio da Delphi non può funzionare questo perché chiaramente c'è un problema legato al fatto che stiamo eseguendo Delphi non con i diritti amministrativi quindi dobbiamo in qualche modo lanciarlo dall'esterno non è un non è affatto un problema perché quello che possiamo fare è banalmente compilare la nostra applicazione quindi andiamo qui facciamo un bel build se compila tutto sì andiamo a vedere dove si trova in explorer sarà sotto win32 release in questo caso va bene partiamo da release ci copiamo questo path e andiamo a lanciare il terminale però con as administrator come amministratore altrimenti non riusciamo a registrarlo quindi facciamo cd cambiamo il percorso su e percorso lunghissimo si chiama webclient in questo caso webclient.exe facciamo register ok dovrebbe aver già fatto tutto sì perché siamo siamo qui e quindi dovremmo trovare la registrazione del nostro webclient all'interno della chiave quindi anche questa cosa è quello che io qui ho fatto a mano lo facciamo fare adesso gli do un f5 ho un setup chiaramente web webcose non vedo webclient ecco vc perfetto vedete che l'applicazione ha già inserito all'interno già tutto quello che serve il comando qui ha messo perché l'applicazione tra l'altro conosce il suo path il suo percorso e quindi come dire è in grado di andare a mettere nell'url se stessa e vedete che qui mi sa che è stato impreciso perché ci manca ah si perché il percentuale nel format ha un ha un significato io glielo ho tolto quindi adesso glielo vado ad aggiungere subito sono sbagliato qui che avevo visto il doppio percentuale non era un errore ma siccome il percentuale è un significato nelle stringhe di formato sarebbe raddoppiarlo per averne due nella stringa tutti gli effetti quindi in questo caso andrebbe a inserire questo percentuale 1 quindi la registrazione è stata fatta a questo punto vado nel in questa pagina che avevo scelto a suo tempo faccio questo check ed ecco che mi ricompare consenti di aprire questo link di tipo scegli applicazione web client apri il link ed ecco che la nostra applicazione è partita e ha fatto il mitico il messaggio il programma è stato registrato nel sistema e funziona regolarmente quindi è arrivato anche il check ovvero cosa è successo che l'url che si vede anche da qui è vc due punti check quindi è arrivato il giro che ha fatto praticamente questo è arrivato al nostro app service che visualizza anche un'icona sulla tray quindi oltre al fatto che viene lanciata un'applicazione di fianco all'orologio c'è un'icona che ci fa vedere che l'applicazione è in esecuzione e questo può essere utile perché magari ad esempio non so noi vogliamo ipotesi lanciare questa applicazione con dei parametri per produrre un report che è fatto con un'applicazione client magari prima di produrre il report mettiamo un'icona nella tray e scriviamo sto iniziando a fare la tale operazione finché l'operazione finché l'icona rimane visibile l'operazione è in corso poi magari quando ha finito fa vedere ho finito e poi l'applicazione il tray scompare quindi potremmo lanciare un applicativo che fa delle operazioni ma anche in modo non invasivo cioè si mette nella tray sta tutto rannicchiato fa le sue cose e alla fine segnala tutto a posto e poi si chiude fa sparire l'icona quindi io qui ho un messaggio a cui ho dovuto dare un ok ma non siamo obbligati quindi lui è entrato qui ha visto che l'operation non era non era vuota l'operation che è andata a estrarre era command perché questo è quello che c'è scritto qui nella registrazione c'è un webclient c'è l'exe poi slash command e poi percentuale 1 che è la parte che arriva ovviamente dal nostro dal nostro server ovvero questo vc due punti check che è il nostro percentuale 1 quindi essendoci command è entrato in questo execute con l'url da cui è stato eliminato il protocollo cioè quella parte vc due punti in modo che quindi ha tolto la parte iniziale dell'url ha preso la parte di check l'ha decodificata e siccome dopo il check non c'è niente i parametri sono sono vuoti length di check non è maggiore di 0 quindi il comando ce l'abbiamo è andato a cercare una classe che si chiama t command check e noi ce l'abbiamo perché qui c'è t command check implementata quindi l'abbiamo implementata e all'interno abbiamo fatto anche la register quindi in ogni unit noi abbiamo un comando e la sua registrazione che dice il comando implementato e lo vado anche a inserire in quell'albo che viene esplorato quando si fa la find usando il nome della classe come parametro quindi il command check c'è ed è stato registrato quindi qui nel momento in cui cerca t command più command name che abbiamo detto essere check ha cercato t command check ha trovato una classe generica l'ha castata come t command class ovvero ha trovato una classe ma non è una t object non è un t component non è una classe generica di delphi ma è una t command cioè ha trovato una classe che è un t command ovvero è una classe che rappresenta un tipo con però un costruttore con argomenti ben specifici un metodo execute e quindi va di fatto a richiamare il costruttore per creare il comando e va a chiamare l'execute è chiaro che qui si fa riferimento alla classe base ma siccome il costruttore è virtuale l'execute è virtuale per il polimorfismo quindi programmazione oggetti viene eseguita la versione del metodo vabbè il costruttore viene eseguito quello di base che prende i parametri di argument e se li salva in questo caso gli argument sono una stringa vuota quindi non ci interessano quando viene chiamato l'execute siccome nel t command è virtuale in realtà viene chiamato l'execute del check che va a fare message box service info va a prendere quel messaggio e lo visualizza fa questo show lo visualizza con una message box come abbiamo visto prima adesso ci arrivo message box prende la caption nella caption c'è il titolo dell'applicazione prende in testo e gli dice se è un system model vai in primo piano stai soprattutto soprattutto le altre finestre e gli abbiamo assegnato questo mbi con information che fa il più di fatto quindi scusate la i di informazioni vogliamo eseguire un altro comando quindi questo è senza parametri wc2.check quindi al command arriva wc2.check e vede che è un comando qui wc2.eco quindi andrà a cercare un command echo e con quel punto di domanda separiamo il comando da quello che è il parametro che in questo caso è l'era del fidei 2020 che era del fidei di un paio di anni fa quindi di fatto questa volta abbiamo anche degli argument quindi cosa fa andrà a fare il parsing tutto il il check tutto quello che abbiamo già visto adesso recupero quella parte arriverà qui che vorrà t command echo e negli argument non saranno vuoti ma saranno la parte che segue il command separator ovvero il punto di domanda quindi quello che segue diventa l'argomento quindi va a fare la create passando quei parametri e poi l'execute il command è echo quindi cerca una classe che si chiama t command echo salva gli argomenti fa l'execute e nell'execute cosa succede che abbiamo una message box dove visualizziamo come messaggio informativo self arguments cioè i parametri che sono stati passati quindi il comando echo con quel del fidei 2020 cliccandolo ci chiede conferma se non la togliamo apriamo il link lancia l'applicazione lancia il message service e in questo caso va a mettere il messaggio qui sopra quindi ad esempio se noi non ci accontentiamo degli alert gli alert ci sembrano di javascript poco potenti possiamo in questo modo visualizzare un messaggio di avviso non tramite il browser ma passando ad un'applicazione che lo porta al il più in alto possibile nel sistema tant'è che penso che è esatto se torno questo vedete che gli abbiamo dato visibilità in system topmost modal quindi finché non viene chiuso rimane la finestra più in alto nell'intero sistema quindi voi potete girare ma questo rimane sempre in primo piano l'unica possibilità ovviamente è chiuderla e l'applicazione termina quindi questo potrebbe essere utile per far vedere un messaggio magari con una priorità alta piuttosto alta che volete essere sicuri che venga visto e questo potrebbe essere un un espediente l'ultimo esempio è il comando explore che fa un override anche del costruttore perché gli argomenti che arrivano devono essere come dire trimmati e forse la cosa in più che qui si potrebbe aggiungere è dire vado a vedere anche se mi è passato visto che vuoi esplorare un file un percorso di file valido quello che avverrà con l'execute è l'apertura di explorer su quel file specifico quindi vado nella pagina come prima clicco qui e vedo che il comando è explore e poi c'è quel riferimento il file xls quindi se lo clicco ok do la conferma apri link quello che mi compare è gestione risorse aperto nella cartella che punta già vedete che è già selezionato il file che gli ho detto quindi porto l'utente a visualizzare questo file in modo che lui sappia ad esempio dove è stato salvato non glielo apro perché magari non vuole lascio all'utente la scelta di decidere se vuole aprirlo o meno allora guardiamo un attimo un'altra cosa di cui potremmo parlare di cui potremmo parlare quindi di nuovo questa è ovviamente sono tutte procedure un pochino manuali anche l'installazione ovviamente come abbiamo fatto un install possiamo fare un install in realtà io l'ho incorporata nell'eseguibile sia per comodità cioè avrei potuto perché in questo modo l'applicazione come dire ha la capacità di prendere se stessa registrarsi come protocollo e quindi cosa succede che l'applicazione oltre a rispondere a queste chiamate è in grado di configurare il sistema per essere utilizzata a questo scopo quindi questo è un po' è un po' l'obiettivo e volendo può anche essere deregistrata infatti ho ancora il prompt aperto se faccio webclient.exe e metto un register l'operazione istantanea perché c'è proprio una chiamata al registro e vado qui ce l'ho ancora aperto mi dice che non posso più aprire questa chiave perché non c'è più se faccio un F5 è scomparsa quindi a questo punto i link ovviamente non funzionano più se clicco non succede nulla perché il browser di turno non trova un'applicazione registrata per questo protocollo quindi l'applicazione si attiva e si disattiva nel sistema dove viene comodo utilizzare questo tipo di funzionalità ovviamente nel fare un quello che è un setup ovvero prendere io ce la dovrei avere il com'è che non lo vedo è impossibile che non ce l'abbia installato curiosa questa cosa non ce l'ho installato però vabbè lo possiamo visualizzare con un visualizzatore adesso provo ad aprirlo con un editor di testo o anche in code così ce l'abbiamo già qui search marketplace cavolo in video studio code c'è il supporto anche per questo tipo di file fantastico direi è perfetto perché così almeno ce lo colora un po' cosa abbiamo qui uno script per inno setup che consente di creare un ma volendo abbiamo anche la possibilità di fare di lanciare una build installation command line usage before you can build ok ci vuole lo script quello ci sta save and compile shift alt b dubito che riuscirà però a fare la compilazione perché senza come dire senza il compilatore non ce la farà ma se ce la fosse che cos'è questa roba è uno script per inno setup inno setup è un tool per la creazione di pacchetti di installazione dove di fatto ci sono c'è un guide per l'applicazione ci sono diverse costanti webclientdemo 1.0 che definiscono ad esempio il nome del gruppo nel menu di windows nello start l'url per il supporto eccetera eccetera le lingue per le stringhe quindi diciamo avanti 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 quello che va a copiare su disco nella destinazione scelta dall'utente è il webclient.exe ovvero prende l'eseguibile lo mette nel pacchetto e quando io eseguo questo setup mi chiederà dove installarlo mi proporrà come programma di default la cartella di program file e una sottocartella dove io voglio mettere l'exe nel momento in cui termine l'installazione ho questo run install run questo run sta a indicare operazioni che vanno eseguite al termine dell'installazione e che cosa ho? ho cartella dell'applicazione webclient.exe con parametro register ovvero scrivo come messaggio di stato che sto registrando il client per eseguire i comandi della pagina web perché ne approfitto? cioè non ho bisogno di creare una struttura particolare nella mia installazione per ricordarmi le chiavi ma ho tutto dentro l'applicazione quindi se per caso un'installazione non vado non va a buon fine o non registro il protocollo viene deregistrato e devo rifarlo se anche non eseguo il setup mi basta lanciare install l'applicazione con diritti amministrativi lanciare install o register scusate e so che in questo caso l'applicazione va a scrivere le informazioni nel registro nel caso di un register le va di fatto a rimuovere quindi questo è un po' è un po' quanto nel setup ne approfitto cioè una volta che ho copiato l'exe lo vado anche a seguire con register perché generalmente il setup anzi non generalmente ma praticamente sempre soprattutto se dobbiamo scrivere in certe cartelle ma io qui non so se l'ho forzato ma c'è anche possibilità di chiederlo espressamente di girare con diritti amministrativi girando appunto con diritti più elevati il setup può andare a invocare l'applicazione con il register e l'operazione va a buon fine perché il setup ovviamente ha i diritti per poter eseguire questa applicazione e scrivere nel registro la cosa carina è che c'è anche un install run ovvero prima se faccio un install prima di rimuovere l'applicazione questa viene di nuovo invocata con un parametro un register in modo da andare a togliere quell'associazione dal registro perché poi i file vengono ovviamente cancellati lanciando un build di questo script ovviamente quello che otteniamo è un file exe che fa da installazione copia questo client ci chiede dove copiarlo copia il client lo lancia lo registra e quindi a quel punto il client è pronto a ricevere le richieste che arrivano dal browser nel formato del protocollo che abbiamo visto che abbiamo visto prima e quindi di fatto rendiamo operativo tutto questo simpatico siparietto questo tool che gestisce fa operazioni invece del browser altre cose che qui potremmo vedere abbiamo i messaggi abbiamo questa registration service che è quello che inserisce e toglie le informazioni da registro abbiamo questo tray service che di fatto ci consente di fare delle operazioni lavorare con l'API il balloon di far vedere qualcosa nell'icona del tray quindi non si nota probabilmente dalla live ma quando l'applicazione parte qui c'è un c'è un'icona che compare e che fa vedere delle informazioni quindi se noi facciamo uno show info potremmo far vedere come titolo non so operazioni in corso int l'operazione durerà qualche minuti non interrompere il programma invece della message box potremmo usare questo tray service per fare sì che come dire invece che con dei messaggi a cui dobbiamo dare ok la nostra applicazione comunichi tramite la tray delle notifiche con l'assistente delle notifiche in questo modo diventa ancora più discreto ovvero magari sta facendo un lavoro ci dice che ha iniziato e che ha finito ma non sta a richiedere degli ok o dei feedback o darci messaggi che stanno come dire in primo piano nella maniera più assoluta e quindi diventa chiaramente meno meno invasivo rispetto all'uso della message box come soluzione e quindi potremmo avere un browser che ad esempio gestisce anche una tray icon perché se diamo tutti i diritti e accettiamo che il browser non ci chieda conferme a quel punto quando clicchiamo l'esecuzione di questo client è istantanea essendo tra l'altro poi un'applicazione nativa fatta in defi che utilizza dell'api senza runtime e altre cose cioè la velocità è praticamente è massima l'integrazione è come se fosse quasi parte del browser o parte dell'applicazione web cioè diventa perfettamente integrata integrata nel sistema abbiamo l'esecutore dei comandi il gestore dei parametri di input una pagina di test che è quella che vedevamo prima con l'anteprima dei link per andare a vedere in poche parole il come dire per andare a scrivere i link provare a testare i link ci sono string di risorse ci sono i comandi ci sono variabili globali e la classe base dei comandi e qui praticamente non c'è nient'altro cioè come abbiamo visto nel primo esempio quello della form che faceva vedere i parametri in realtà l'approccio è molto semplice ovvero mettiamo le informazioni nel registro con l'exel segnaposto del parametro e a quel punto quando usiamo quel nome di protocollo nei link il browser invoca la nostra applicazione con una conferma che possiamo disabilitare e ci passa tutto ciò che segue nella stringa se noi a quella stringa iniziamo a dare una struttura e ci inventiamo un significato possiamo costruire come abbiamo visto qui un'architettura che è espandibile dove noi possiamo creare un'applicazione che faccia diverse cose è chiaro che potremmo ad esempio ricevere un url e integrare qui delle chiamate rest potremmo integrare chiamate un database fare un login magari eseguire delle operazioni prendendo il token direttamente dalla pagina web potremmo cioè è un'applicazione che è un client a tutti gli effetti è un'applicazione windows nativa può fare quello che vuole può configurare il sistema magari noi abbiamo non so una pagina web con un configuratore scegliamo delle opzioni e da qualche parte ci scarichiamo un tool di accompagnamento dove nel momento in cui abbiamo fatto tutte le nostre scelte schiacciando un pulsante le scelte invece che essere inviate dal server arrivano su un client che non so ci fa vedere qualcosa di grafico ci fa come dire ci fa lavorare a stretto contatto col sistema operativo realizzando cose che magari nella pagina web non sono possibili o magari è difficile implementare perché non abbiamo a disposizione questi componenti questo approccio rad nello sviluppo di un'applicazione windows che ovviamente è molto più rapida rispetto a quella di un client di un client tradizionale quindi questo è un po' il principio l'idea di questo esempio è quello di riprenderlo l'ho ripescato perché come dire l'idea è anche quello di cambiamo videata così tanto abbiamo pressoché finito l'idea è quella magari di incapsulare in una sorta di di libreria affinché come dire ci si riesca a fare un'infrastruttura che importata usata come dipendenza all'interno di un'applicazione consente di sviluppare il proprio client web quindi nel momento in cui magari uno vuole fare un client web fa un'applicazione vcl invoca questo questo framework c'è già un'interpretazione di comandi una classe base per i comandi c'è già come dire un pochino tutto quello che serve per fare delle operazioni ipoteticamente lanciando l'applicazione con un comando particolare o registrandola appunto come applicazione web a tutti gli effetti quindi integrando anche la parte che mette quelle informazioni nel registro che servono per trasformare quell'applicazione in un client invocabile dal browser questo è un po' il succo del nostro esempio ok direi che l'esempio l'abbiamo visto è chiaro che ci sarebbe molto da dire era giusto per dare un'idea ovvero in certi casi se si capita di avere questa necessità questa può essere una soluzione molto veloce per non l'abbiccarsi con javascript su cose che non sono possibili ma magari dare quella cosa al cliente che con un setup molto veloce con una cosa molto snella poco invasiva riesce a dare quel quid in più all'applicazione web che di fatto la completa è chiaro che senza questa applicazione installata quindi tutti gli utenti dovranno ovviamente mettercela e attivarla se vogliono usufruire delle funzionalità però insomma come dire al netto di lanciare un setup che è quasi istantaneo perché il setup lì che ho fatto chiede il nome del gruppo di windows chiede il percorso ma volendo potrebbe anche essere muto e semplicemente copiare i file registrarlo e dire ok ora puoi andare anche perché se parliamo di soluzioni custom come dire se la facciamo per un cliente possiamo concordare con il cliente dove va installata anzi è bene che in tutti i client in cui viene utilizzato magari un gestionale web interno quel tool di accompagnamento sia sempre presente sia sempre in quella cartella e non lasciando gli utenti la possibilità di scegliere dove posizionarlo in modo che come dire anche l'assistenza diventi più facile quando qualcuno dice ho l'applicazione che non va o cose di questo tipo e quindi come dire risolvendo diciamo togliendosi anche qualche mal di pancia dal punto di vista poi dell'assistenza verso il cliente in un secondo momento quindi vi lascio giusto qualche qualche riferimento quindi poi caricheremo caricherò questo esempio anche su github se volete vedere rivedere questa live rimane su twitch per qualche giorno ma vi do il comando per vedere su youtube le repliche di tutte le live precedenti perché come dire l'anno scorso ne abbiamo fatte un sacco abbiamo visto un sacco di cose giochi abbiamo visto accesso a web API abbiamo creato delle web API abbiamo fatto applicazioni su largo schermo abbiamo usato app tethering abbiamo fatto un sacco di cosine molto interessanti quindi se volete vederle questo è il canale youtube se invece poi magari ve lo scrive streamlabs ma volete rimanere aggiornati sulle live questa e quelle future c'è il canale telegram dove di fatto ricevete solo gli aggiornamenti quindi solo un po' stasettimana o quando c'è la live che dice di cosa si parlerà e quindi se come dire non seguite tipicamente i social li trovate un po' tutte le informazioni per vedere per sapere di cosa si parlerà e se si parlerà soprattutto di qualcosa perché a volte l'assalto purtroppo non ci riesco e quindi cerco di fare un po' come si può siamo praticamente a mezzanotte direi che questa sera c'è molto silenzio sono andato già tutti a letto non c'è nessuno forse c'erano le partite quindi posso capire infatti l'argomento era un pochino era un po' meno intrigante magari di quelli che abbiamo fatto le altre volte oppure c'è un po' di stanchezza sono tutti ammalati e quindi è un periodo un po' particolare però io come sempre spero che l'argomento sia stato utile se qualcuno sta guardando magari anche questa live indifferita e ringrazio come sempre appunto tutti quelli che hanno fatto il ride poco prima e quindi che sono collegati sono rimasti collegati e quindi come sempre per il supporto che è molto apprezzato ed è fondamentale che mi sprona a continuare ovviamente a fare le live a trovare sempre nuovi argomenti se possibile anche se ovviamente ci vuole un pochino di diventa sempre sempre più arduo trovare un po' argomenti nuovi ma comunque perché dovrei esplorare un po' anch'io ma ho in mente poi di iniziare delle nuove serie magari più più rilassanti tra virgolette per me meno lezione frontale magari una cosa più come dire collaborativa magari con chi c'è o chi vuole partecipare per per fare sperimentare con dei effi con altri linguaggi delle soluzioni delle architetture per imparare sempre qualcosa di nuovo e vedere acquisire delle idee anche poi da chi partecipa in chat e quindi molto 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 volentieri quindi come dice sempre la nostra sera non ho non ho il login non ho la mia dashboard no ce l'ho funziona il mitico ci stava almeno ci stava per concludere la serata in bellezza e quindi non potevo non potevo non metterlo perfetto quindi adesso posso andare in come dire a dormire felice quindi grazie di nuovo ci vediamo alla prossima la prossima chat quindi seguitemi sui canali social che trovate non mi ricordo se ho messo anche un comando social puoi trovare tutti i miei profili social qui beh sono stato bravo ci ho messo anche i comandi quindi a quel link che trovate nella chat link 3 potete trovare tutte oppure sull'info del canale tutti i link canali social così lasciate anche qualche commento o mi raccomando proponetemi anche se vi va delle idee perché molto volentieri io da altre live da altre esperienze prendo sempre volentieri spunto per fare sperimentare cose nuove in modo da studiarmi qualcosa io e poi da riproporre per divertirci divertirci assieme programmando come si suol dire grazie di nuovo per la partecipazione e vi saluto vi do la buonanotte e vi do appuntamento alla prossima live ciao a tutti e alla prossima ciao ciao ciao